Il palacavicchi Il palacavicchi con i suoi 1500 metri quadrati, dotato di pareti divisori e mobili, è l'ideale per presentazioni aziendali e grandi meeting. A seconda degli allestimenti può ospitare fino a 1500 persone a platea ed ampio palcoscenico. È dotato di tribuna telescopica scomparsa da 908 posti a sedere, si possono allestire banchi di scuola per oltre 500 persone o cene di gala fino a 600 posti. Il pavimento in parquet ed il tetto in legno lamellare donano al palacavicchi un'immagine che rende ogni evento unico e irripetibile.